Se il piano strategico europeo prevede come obiettivo quello di destinare entro il 2050 al 40% di terreni agricoli al bio, nelle marche si può dire che si stia già correndo, poiché oltre il 25% di superfici coltivate riguardano proprio il biologico, un settore in crescita in cui la rivoluzione è già in atto, ma dove resta ancora tanto da fare per la sua promozione. Concetti illustrati e ribaditi tra gli altri sabato scorso 27 novembre all'agriturismo Il Paradiso in Collina nell'occasione della 25esima edizione della giornata del biologico 2021 promossa dalla CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Pesaro Urbino e dalla Camera di Commercio delle Marche. Cerchiamo di fare una giornata dedicata al metodo di produzione biologica per valorizzare non solo il prodotto biologico ma anche il ruolo che svolge il metodo biologico per l'ambiente e soprattutto cercare di convincere i consumatori che cibarsi di biologico è più salutare. Noi viviamo in una provincia che è stata la culla del biologico, possiamo dire nazionale, abbiamo tante e tante imprese agricole che credono fortemente in questo metodo, lo credono sia da un punto di vista economico ma anche da un punto di vista ambientale. La biodiversità che c'è nella nostra provincia si trova in poche altre province, e questo lo dobbiamo dare anche agli agricoltori biologici. Credo che loro svolgono un ruolo fondamentale per l'ambiente. Occorre che le politiche, sia le politiche economiche che le politiche di tutela del territorio vengano in qualche modo a favorire una diffusa presenza degli agricoltori biologici in tutte le aree della nostra provincia, sicuramente quelle pianeggianti ma fondamentali sono quelle montane. Abbiamo una necessità, abbiamo un'emergenza che è l'emergenza a Pennino, noi dobbiamo fare in modo che le politiche verso il biologico e verso l'agricoltura per quelle aree siano politiche di forte incentivazione per poter rimanere a tutela di quel territorio. Ed è proprio sul distretto del biologico che le marche si giocano una partita importante, così come ha sottolineato il vicepresidente della giunta regionale, Mirko Carloni. La regione ha una strategia molto chiara sulla promozione del biologico. A noi non compete fare la produzione, ma compete fare la promozione. Noi dobbiamo riuscire a fare in modo che i produttori agricoli che fanno un'agricoltura sostenibile siano riconosciuti, ci sia un'operazione di branding sulle marche e come per altre regioni, quando si definisce la parola marche ci si ha la percezione di una cosa di qualità. Quindi per fare questo siamo stati i primi in Italia a creare un distretto del biologico con tutti i produttori dentro, piccoli e grandi, facendo in modo che ci sia un soggetto che possa andare all'estero a promuovere l'organic food, cioè tutto quello che per noi è il cibo di grande qualità. E creare un'immagine bio delle marche significa parlare di una regione ad alta sostenibilità, ad alta qualità della vita e con anche gli effetti positivi per un turismo. I nostri prodotti sono destinati ai mercati ad alto valore aggiunto, cioè quei mercati dove il cibo di lusso può essere anche un moltiplicatore economico altissimo. Noi abbiamo l'Expo Dubai, le marche è una piccola regione italiana, magari che tanti non conoscono, e allora su questo evento noi ci potremmo presentare come l'unico distretto grande di queste dimensioni a livello europeo e possiamo mettere in campo per i nostri operatori quei fondi che possono servire tramite la comunità europea, la regione e quello che possiamo fare come Camere di Commercio proprio per valorizzare al meglio anche la redditualità dell'imprenditore dell'agricoltura che lavora su questo settore. Il problema è che il mercato deve capire quanto è importante valorizzare il nostro lavoro a tutela di un ambiente sano, salubre e di derate alimentari uniche.